Il contributo a fondo perduto, previsto dallo sportello Simest, in apertura il 3 giugno, sarà concesso per una percentuale pari al 25% a valere su tutte le misure, nel 2021, ad eccezione di quella relativa alla patrimonializzazione. È confermato il finanziamento a tasso agevolato a copertura del 100% delle spese o a copertura del residuo nel caso di operazioni con cofinanziamento a fondo perduto. Tempi stretti e conformità edilizia, i rebus delle professioni. I tecnici. Architetti, geometri, ingegneri e periti industriali reputano indispensabile una proroga. Sono quasi tutti già impegnati sino a fine 2022. Effetto flat tax sulle dichiarazioni dei redditi del 2020. Nel 2019, primo anno d'imposta in cui è entrata a regime la tassa piatta al 5% e al 15% per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 65.000 euro, il numero dei contribuenti che hanno scelto di diventare forfettari è cresciuto dall'82,5%. Confisca anche se il reato accertato è prescritto. Irrilevante che la misura sia stata adottata nella forma per equivalente e non diretta. Misura applicabile ai delitti commessi dal 6 aprile 2018. Da Radiofisco è tutto. A risentirci alle prossime notizie.